Nel weekend torna la festa della Castagna di Senarica, imperdibile appuntamento autunnale con la montagna terramana. I suoi sapori e le sue genti ogni anno richiamano nel piccolo borgo dell'Alta Valle del Vomano migliaia di visitatori. La quattordicesima edizione si presenta all'insegna del consolidato format che coniuga il momento di riflessione istituzionale con l'enogastronomia locale, incentrata sulla valorizzazione del pregiato marrone. Una tradizione, un orgoglio, una soddisfazione di chi parla ma di un comprensorio che è tanto in sofferenza in questa quindicina perché poi la Castagna, il prodotto di Senarica e il marrone avvolge quasi l'intero mese di ottobre e al 15-20 ottobre c'è questa manifestazione. Ormai è giunta la quattordicesima edizione e credo che sia una buona cosa per il territorio, per il prodotto, il nobile prodotto di Senarica e per il comprensorio proprio della montagna che cerca di reagire a questa difficoltà che insomma viviamo tutti i giorni. A ricevere il premio la Castagna d'Oro 2019 che premia personalità che si sono distinte per particolari impegni a favore del territorio, quest'anno sarà il ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, giocommissario della ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del centro Italia, con la quale sarà sviluppato un confronto su necessità e criticità del processo di ricostruzione dei comuni del cratere Terramano. Abbiamo visto l'onorevole Paola De Micheli lavorare nel sisma, lavorare con passione, con attenzione, ha portato molte soluzioni al territorio e quindi questo comitato, noi lo chiamiamo di saggi, ha deciso di dare il premio la Castagna d'Oro oggi al ministro Paola De Micheli. E' con vera soddisfazione che lo facciamo perché credo che proprio meriti questa riconoscenza, ok per il ministro ma soprattutto per come ha dimostrato attenzione alle problematiche dei territori abruzziesi e delle quattro regioni nel momento del sisma. La Castagna di Senarica è una, diciamo, non voglio essere campare in lista, però è una delle castagne più buone d'Italia, è una castagna dolce, di pezzatura medio-grande, bionda e molto gustosa. Le condizioni medio ci dicono che saranno due giornate di sole, di caldo e quindi sarà sicuramente una bella manifestazione e vi invitiamo a venire a Senarica, a assaggiare le nostre castagne e a fare festa.